N'è passato di tempo, le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo, silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messi a dura prova, ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di cento anni c'è un luogo dove tutti ci riuniamo per divertirci, per evadere, andare in posti sempre nuovi. Il cinema. Nulla è paragonabile al momento in cui si spengono le luci, si accende il proiettore e cominciamo a sognare. Non starei pensando quello che penso che stai pensando, non c'è il ponte! Oh merda no! Beh, questa è nuova. Dopo essere stati soli così tanto, ti manca la vecchia vita. E a te? Ogni giorno. È ora di tornare a stare insieme. Io sono pronta se tu lo sei. A sorridere. Oh, il culo a fuego! A esultare. Sì! Siamo pronti per farlo di nuovo. Perché non c'è un ritorno migliore del cinema. Sono felice di essere qui. Ci vediamo al cinema. Ciao! Hallo! Autore dei sovrapposti